amici di milan punto soccer eccoci con un nuovo appuntamento come state trascorrendo la domenica e si è un po noiosetta così vero vabbè ci pensiamo noi ci pensiamo noi in qualche modo mi è venuta un'idea allora prima però di cominciare come sempre vi chiedo di iscrivervi qui sotto al canale facile e soprattutto semplice e gratuito quindi iscrivetevi iscrivetevi siamo sempre più numerosi e poi più in basso link in descrizione se vi va visto che si avvicina il natale un bel regalo quello del libro romanzo milan presto altre novità e se volete vederne alcune www.milan.soc.er allora il calcio sta cambiando ieri vi ho fatto una promessa vi avevo detto attenzione a quello che succede in premier league perché in qualche modo non dico che c'entri il milan milan c'entra sempre ma in qualche modo potrebbe essere per il nostro futuro qualcosa di interessante recentemente uno dei nostri dirigenti uno dei nostri quadri dirigente quadro poco interessa dirigente del milan è andato a lavorare al celsi dunque questo cosa c'entra c'entra perché i rapporti tra milan e celsi sono buoni rapporti ottimi rapporti e in premier league c'è un caso molto eclatante è già stata definita la sentenza che ha portato a meno 10 punti l'everton violazione del loro lo chiamano fpf ovvero diciamo così un po il bilancio quando ci sono ritardi nei pagamenti e dunque quando ci sono degli squilibri di bilancio l'everton apre un nuovo scenario completamente per la premier league perché loro si chiamano i toffii a causa del mancato proprio rispetto del fair play finanziario l'fpf fair play finanziario è un tema che interessa molto non la chiudono alla carlona come in italia ecco il manchester city e il celsi rischiano pensate la retrocessione in serie b quindi stiamo parlando del manchester city fondo pif manchester no newcastle fondo pif ora un piccolo fondo arabo e poi il celsi con tutta la sua storia con tutte le sue evoluzioni con tutte le sue vittorie con tutta la sua forza economica eppure non è tutto oro quello che lucica e la questione molto interessante e perché perché è certo che se quelle due squadre e guardate che alcuni giornali inglesi danno per certo la retrocessione di manchester city e di celsi soprattutto considerando che l'everton ha preso 10 punti di penalizzazione per questioni molto più soft diciamo così rispetto a quelle del manchester city e del celsi beh io dico che sarebbe ora di arrivare a delle scelte se le società non funzionano è inutile coprirle se le società sono indebitate è inutile come dire continuare l'agonia o far finta di nulla o fa o sapere queste cose solo in alcuni ambienti a tal proposito facendo un passo dall'inghilterra all'italia sulla rivoluzione un po del calcio gravina accelera sulle riforme non ha deciso di fare delle riforme proprio sul nostro sulla nostra sistema calcio e proprio venerdì è andato in scena il consiglio federale presieduto proprio da gravina e che ha appunto accelerato prepotentemente per quanto riguarda le varie riforme in programma nel mondo del calcio a tal proposito bisognerà però superare alcuni diciamo alcuni scogli ma diciamo che il di fatto il presidente della federazione italiana gioco calcio ha annunciato la volontà di convocare dunque superare questi scogli per il prossimo 11 marzo 2024 che cosa succederà in soldoni diciamo che non è facile spiegarlo però la sintesi è quella di creare ambienti economici più sostenibili quindi creare una leggerezza anche dal punto di vista economico l'obiettivo dunque non è ridurre il numero delle squadre cosa che noi abbiamo sempre sostenuto perché aumentano le competizioni europee aumentano gli impegni europei aumentano le amichevoli l'ha detto anche il nostro furlani all'estero ma non si può sostenere una serie a soprattutto con squadre che non sono all'altezza di essere in serie a andava ridotto il numero delle squadre in serie a comunque l'obiettivo per gravina non è quello di ridurre il numero di squadre a quello si potrà arrivare per il mancato rispetto di norme di iscrizioni bla 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 ma di ridurre le retrocessioni quindi l'idea della rivoluzione del calcio di gravina e di ridurre le retrocessioni potrebbe infatti la serie a passare da tre a due retrocessioni dalla serie a alla serie b e potrebbe anche essere introdotto uno spareggio questo tutto l'undici marzo si decide tra la terz'ultima di serie a e la terza di serie b proprio sul modello tedesco quindi noi prendiamo emuliamo dal diciamo così dall'estero alcune cose in particolare dalla bundesliga il fatto di fare uno spareggio tra la terz'ultima di serie a la terz'ultima di serie b e e non prendiamo in esame la questione del fair play finanziario questo è il concetto ora io da questo punto di vista rimango abbastanza basito perché non voglio fare diciamo così allarmismo ma quante società oggi potrebbero effettivamente passare l'esame fp f fair play finanziario inglese e dunque resistere in serie a ecco noi sì il milan sì almeno diamoci questo vanto e questo orgoglio poi più tardi ricominceremo a parlare del calciomercato a proposito giro ieri ne ha fatte due ma la solita francia insomma contro gibilterra ne ha fatti 40 40 0 quando è che è finita 41 0 mi sembra abbastanza inutile fare queste queste partite no anche questo rischio tomori sta bene per fortuna ha twittato o ha xato non so come si dice twittato xato adesso sapete che non si chiama più tweet quindi si chiama x comunque ha dato ai tifosi rossoneri il via libera per il suo ritorno ha detto sto bene sono una botta alla caviglia meno male giro ha fatto due gol per quanto uno annullato quindi sarebbero stati tre contro gibilterra quindi le buone notizie ci sono però fermiamoci un attimo a riflettere prima della pennichella post pranzo sulla questione relativa alla rivoluzione della serie alla parte di gravina a me personalmente se quella si chiama rivoluzione bye bye ci vediamo più tardi ciao